Bene, SpongeBob, ti devi difendere. Vedi che è facile. Beh, se tu vedi un bullo, lo devi ammazzare di vuote. Bene, così. Ecco, prendi una bellissima mazza. Prendi questa mazza. Certo, sei stato bravissimo. Beh, però ricordati di ammazzare tutti quelli che ti prendono in giro. Beh, se tu lo vedi, almeno se uno è bravo... Beh, se uno è cattivo, tu lo devi ammazzare di botte. Certo, Mr. Krab, io ammazzo sempre di botte.